Renault lancia la versione full electric della sua piccola city car iconica e nasce Twingo ZE, personalità spumeggiante e sbarazzina, divertente e piacevole, che si esprime perfettamente nel suo ambiente preferito, la città. Dal 1992, anno di lancio, tre generazioni e circa 4 milioni di unità vendute in 25 paesi. Twingo non ha mai smesso di reinventarsi. Basata su una piattaforma concepita per il full electric, Twingo ZE offre maneggevolezza, autonomia e prestazioni perfettamente in linea con le esigenze dei conducenti urbani, riprendendo il potenziale di personalizzazione unico di Twingo. Piacevole e facile da guidare, vanta il miglior raggio di starsata del mercato, 4,3 metri e fare inversione diventa veramente un gioco da ragazzi. Settimo veicolo full electric sviluppato da Renault, estremamente versatile, con la sua batteria da 22 kWh, Twingo ZE offre 250 km di autonomia in ciclo WLTP City, potendo così scorazzare per tutta la città per una settimana intera con una sola ricarica e si ricarica fino a 4 volte più velocemente delle concorrenti sulle colonnine più diffuse nelle aree pubbliche. A Twingo ZE basta una pausa di mezz'ora collegata a una colonia da 22 kW per recuperare 80 km di autonomia. Twingo ZE conserva il suo musetto malizioso e accattivante. Il paraurti scolpito con prese d'aria e gruppi ottici a LED C-shape le conferisce un frontale dinamico e grazie all'abbinamento di tinte di carrozzerie, pack colorati, stripping e cerchi, la personalizzazione è il suo vanto. Compatta, abitabile e modulare, Twingo ZE è sempre più complice nella vita quotidiana e con i nuovi servizi connessi Renault Easy Connect facilita la vita del conducente che può accedervi tramite il touchscreen da 7 pollici ad alta definizione, chiamato Renault Easy Link tramite lo smartphone mediante l'app MyRenault. La batteria di Twingo ZE da 22 kW con celle a ioni di litio sviluppate con LG Chem è installata in modo da non modificare né l'abitabilità né il volume del bagagliaio e la sua gestione termica è garantita da un sistema di raffreddamento ad acqua. Novità assoluta per la gamma Renault ZE. Il motore da 82 kW di Twingo ZE eroga una coppia massima di 160 Nm immediatamente disponibili con accelerazioni e riprese decise, silenziose e accessibili fin dai bassi regimi. L'accelerazione da 0 a 50 km orari si effettua in soli 4 secondi e la velocità di punta 135 km orari consente alla piccola elettrica di circolare su superstrade e autostrade. Inoltre con la modalità di guida BIMO del conducente può scegliere tra tre livelli di frenata rigenerativa. Super City Car Twingo ZE è la risposta di Renault all'evoluzione della domanda nel segmento delle piccole City Car, un'auto pratica ed economica rispettosa dell'ambiente. Renault Twingo ZE Easy Electric Life Grazie a tutti!